La disperazione dilaga tra i 600 e più dipendenti dell'ITR, le notizie sul concordato sono drammatiche, c'è solo una richiesta di affitto e di acquisto per la storica industria tessile di Pettoranello, la presentata all'IKF di Milano e, se il giudice darà il via libera, prevede l'assunzione nel giro del primo anno di appena un centinaio di unità, decisamente poco rispetto agli attuali numeri. Sui gruppi dei social network dilaga la protesta e l'indignazione, i lavoratori dell'ITR sparano a zero su tutti, sindacati, RSU, compratore e proprietà dell'ITR. Ma la drammaticità del momento fa perdere di vista le vere responsabilità di quello che sta accadendo. Da una parte l'azienda stessa, che ha forse sovravvalutato la potenzialità dell'ITR rispetto alla pesante crisi economica che ha investito l'intero settore manifatturiero del Paese. Dall'altra la Regione Molise, che se, a fine ottobre, avesse onorato la sua fideiussione, riscattando il 51% della società ed acquisendo il controllo dell'ITR, avrebbe dato il via ad una nuova stagione per la storica industria molisana della moda. È bene chiarire questo punto, perché nella rabbia e nell'agitazione del momento tutti sono indotti a sparare a zero sul concordato e sui suoi esecutori, dimenticando che adesso si sta solo tentando di evitare la chiusura e mantenere in vita, nel polmone artificiale, un'azienda ferita mortalmente. È come sparare sui medici del 118, dimenticando le cause dell'infarto. Certo, la Regione non è responsabile perché non ha governato l'azienda, ma il 31 ottobre avrebbe potuto prendere la maggioranza delle quote e la guida societaria. La Regione non lo ha voluto fare, non ha voluto pagare la fideiussione e non ha voluto esercitare l'opzione di acquisizione delle quote. Da lì il definitivo collasso dell'azienda, che nel giro di tre mesi ha dovuto accelerare le procedure concordatarie per evitare fallimento e chiusura. Ora si spara a zero su quei tecnici che, in condizioni di assoluta emergenza, stanno tentando di tenere in vita un malato terminale. Ma è bene chiarire che sono arrivati quando la frittata era già fatta e dopo che la Regione si è ripetutamente rifiutata di entrare, ribadendo il suo rifiuto a fare impresa. La stessa Regione, però, che ha prima rifiutato e poi ricapitalizzato la gamma di Boiano e la stessa Regione che, certamente, trascinata in tribunale, dovrà comunque pagare la fideiussione ITR. A quel punto, perché non pagarla prima e salvare l'ITR e i suoi dipendenti?